Gli uomini e le donne di oggi hanno bisogno di incontrare Dio attraverso spazi e tempi di ascolto intenso della sua parola, nel silenzio e nella preghiera. Luoghi privilegiati per questa esperienza spirituale sono le case di spiritualità, che vanno sostenute e fornite di personale adeguato. Lo ha rilevato Papa Francesco nel discorso alla Federazione Italiana di Esercizi Spirituali nel cinquantesimo dalla Fondazione. In coraggio i pastori delle varie comunità, ha detto il Papa, a preoccuparsi perché non manchino case di esercizi, dove operatori ben formati e predicatori preparati, dotati di qualità dottrinali e spirituali, siano veri maestri di spirito. Tuttavia non dimentichiamo mai che il protagonista della vita spirituale è lo Spirito Santo. Egli infatti sostiene ogni nostra iniziativa di bene e di preghiera. Grazie a tutti.